La legge di bilancio 2022 ha previsto delle variazioni per quanto concerne il sisma bonus e l'eco bonus. Infatti il bonus stesso diminuirà nel corso degli anni. Rimarrà invariato 110% per il 2022-2023, passerà al 70% per il 2024 al 65% nel 2025, dopodiché cesserà. Ecco, è evidente che chi prima fa meglio andrà.